buongiorno a tutti stamattina ci troviamo in via barbuti a casa del signor salsano vincenzo e questa è una storia molto triste che ci spiegherà il professore esposito il signor salsano praticamente ha avuto uno strato esecutivo quali provvedimenti stanno prendendo gli assistenti sociali per venire incontro alla famiglia salsano moglie e bimba di 7 anni allora sicuramente buongiorno a tutti ci troviamo in una situazione particolare c'è da dire che il signor salsano è invalido e diabetico e ha una bambina di 7 anni tra l'altro è disoccupato e avendo problemi agli occhi tra l'altro non può lavorare c'è questo sfratto imminente e fondamentalmente facciamo anche un appello al sindaco di fisciano il quale con un articolo di risposta al signor salsano sul giornale ha preso in carico la situazione quindi di risolvere più presto il problema stamattina sono venuti gli avvocati è venuto l'ufficiale giudiziario e grazie all'umanità anche della famiglia dei proprietari hanno dato alcuni giorni di sospensione affinché si risolvesse la situazione ora io faccio un appello agli assistenti sociali del comune di fisciano anche a tutti coloro uguali sono competenze rispetto a queste problematiche anche perché noi abbiamo strumenti per risolvere queste difficoltà queste difficoltà si possono risolvere perché ci sono fondi regionali tra l'altro i comuni devono anche provvedere con contributi straordinari per queste famiglie che hanno grosse difficoltà economiche quantomeno trovare un alloggio o quantomeno farsi carico di alloggiare una famiglia temporaneamente in strutture idonee quindi è un appello che noi facciamo all'avvocato tommaso amabile in quanto sindaco primo cittadino e affinché questa situazione si risolvi al meglio possibile il sindaco di fisciano tommaso amabile che anche avvocato troverà ovviamente una soluzione al problema che è imminente perché stamattina oggi 27 marzo 2014 alle ore 8 qua in via Barbuti si è presentato l'ufficiale giudiziario con i proprietari dell'abitazione e gli avvocati di parte praticamente lo sfratto era esecutivo infatti sono venuti anche i carabinieri per mettere fuori di casa materialmente il salsano fortunatamente per umanità anche dei proprietari dell'abitazione si è aggiunta una proroga ma si tratta di una proroga provvisoria di pochi giorni giustamente anche i proprietari devono essere tutelati nei loro interessi ed è carico degli assistenti sociali poi provvedere a questa difficoltà. Adesso il signor Sassano personalmente ci illustrerà un po' tutto l'evento tutta questa tragica. Buongiorno io sono Sassano al che io fino a un anno un anno e mezzo fa pagavo perché avevo un lavoro e non ho potuto più pagare in quanto la salute non me lo permette di poter lavorare. Ho un claucoma all'occhio destro, ho avuto tre interventi ma alla fine non ho risolto niente e quindi non riesco ad andare avanti. Non so come fare con una bambina piccola. Stamattina grazie all'ufficiale giudiziario è stato molto umano che mi ha dato una proroga di pochi giorni insieme ai proprietari ma leggendo dal giornale la città l'avvocato Tommaso Amabile, il sindaco, il primo cittadino di Fisciano si è preso un impegno di trovarmi una sistemazione. Lo spero con tutto il cuore perché a parte tutto è una brava persona, una persona che si offre. Io stamattina vado al comune per vedere un po' di risolvere questo problema. Non tengo altro da aggiungere.